Noi possiamo realizzare i tuoi sogni, possiamo inventarli, costruirli, renderli reali, possiamo donare alla tua moto una nuova vita per renderla unica, perché costruiamo qualsiasi tipo di personalizzazione su tutti i tipi di moto, in più assistenza tecnica, vendita moto nuove usate e pagamenti rateizzati, aperti la domenica mattina, a pianura in via Ida 2731 Napoli.